Ma non vi vergognate per niente Augura la morte a dei bambini Solo perché il padre ci ha avuto la colpa di trasferirsi dalla Juventus al Milan Ma vi state a rendere conto di che cazzo stiamo a parlare? Stiamo a parlare di calcio E voi mi state a paragonare il calcio con la vita di due bambini Che non c'entrano assolutamente un cazzo Ma poi io dico no? Ma proprio l'altro giorno, un paio di settimane fa È morto quel bambino piccolo, tifoso del Sunderland Difoso è disperato perché Porello è morto per una malattia grave Sul web tutti, ah povero bimbo, povero bimbo Non ho letto ovviamente commenti contro il bambino E dopo due settimane ve ne uscite con ste stronzate Ma quanto cazzo siete ipocriti? Ma poi io dico no, sì vabbè Può essere considerato traditore e bolucci perché alla fine parlano i fatti Aveva giurato amore eterna alla Juventus, se ne è andato al Milan Ma voi non sapete quello che c'è sta sotto Là ci stanno problemi sicuramente non solo con l'allenatore Allegri Ma anche con la società Ma perché cazzo stiamo a fare tutta sta storia E arriviamo addirittura, e lo ripeto, ad augurare la morte ai figli Che poi uno dei figli dei bonucci, poverino C'aveva veramente dei problemi gravi C'ha avuto una malattia grave Gli avete addirittura alcuni di voi augurato che gli possa ritornare Ma voi siete malati demente C'è gente che per il calcio ucciderebbe E è successo perché in alcune partite è successo che sono morte delle persone Per scontri tra tifosi perché cosa? Per 22 persone che corrono a pressa un pallone Ma damo se una regolata, damo se una regolata Ma che cazzo state a fa' Non ce l'ho con tutti, per carità C'è gente che ovviamente si è discostata da ste cose Ma alcuni l'hanno pensato e l'hanno detto Possibile che qualsiasi cosa nella vita Che sia religione, che sia politica Qualsiasi cosa, ma pure il calcio deve essere motivo di violenza E non parlo solo di violenza fisica Ma anche di violenza verbale Cioè Bonucci non ce può avere la tranquillità Di andassene al Milan e di stare tranquillo in famiglia Con la moglie e coi figli Perché c'è sta qualche handicappato Con tutto il rispetto per gli handicappati Che se permette di minacciarlo Ma ritornate sulla terra Stavamo a parlare dei palloni e li mortacci vostri Va bene tutto, va bene lo sfottò Va bene di gli pezzo de merda Sei in volta cabana Avevi detto che non te ne saresti andato Alla fine sei andato via Ma non oltrepassiamo certi limiti Ve lo ripeterò sempre Il calcio deve essere motivo di svago Viviamo in un mondo di merda In una vita di merda In cui ognuno cerca di prevalere sull'altro E niente Pure la domenica Quando uno se va a gustare una partita A rilassarsi A farsi i cazzi propri Devono uscire fuori Violenze, botte, bestemmie Ma che cazzo state a fare? Datevi una carmata E sparite dai social Secondo me queste cose I social andrebbero aboliti totalmente Quando succedono queste cose? Ce dovrebbero stare dei filtri De qualcuno che controlla Ma è talmente grande il giro Che è impossibile controllare i profili De tutte le persone E poi soprattutto dei personaggi famosi Come i calciatori Che c'hanno 75 milioni di persone Che li seguono Come fai a filtra tutto? Non è possibile Ma alle minacce C'è un limite A tutto Io spero che Bonucci Prenda provvedimenti Prenda i nomi De tutte le persone Che lo hanno minacciato E le vada a denunciare Perché è giusto Che questa gente Paghi per quello che dice E sparisca Definitivamente Dal web Ma pure dal mondo del calcio Dall'immortacci Loro che li campa E de quando se ne escono Con ste stronzate Fatevele esame De coscienza E annatevena A fanculo Dall'immortacci